La fine del mondo In particolare la parte in cui Mr. Rain e San Giovanni cantano Sarebbe simile a L'Azza contro Mr. Rain e San Giovanni San Giovanni e Mr. Rain hanno copiato l'Azza Si può parlare di plagio? È un po' quello che si sono chiesti in questi giorni diversi siti Il tutto ovviamente è nato qui sui social Da diversi commenti di utenti che hanno fatto notare la somiglianza tra queste due canzoni E L'Azza cosa ne dice? L'Azza ovviamente ha detto la sua pubblicando un semplice tweet Scrivendo Tanto lo sai Quindi si tratta di plagio? Non si tratta di plagio? L'Azza si è schierato contro questi due artisti? O semplicemente era ironico? Nel dubbio direi chi se ne frega Ma anche e soprattutto Chi è senza peccato scagli la prima pietra